Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Lilli mi riaggancio a Jacopo, perché il corpo delle donne è sempre oggetto di scandalo? E soprattutto perché a deciderlo sono sempre gli uomini? Non so, un po' perché noi donne siamo troppo poco decise a prendere il timone in mano e a dirigere le cose che forse andrebbero spesso un po' meglio. Non so se è sempre il corpo delle donne che è da scandalo. So che sicuramente oggi siamo prigionieri tutti dell'apparire. E questo penalizza in particolar modo le donne perché le chiude in una gabbia di conformismo estetico e chi non corrisponde ai canoni estetici decisi dai media e dagli influencer e replicati a milioni poi attraverso i social è fuori gioco. E a essere fuori gioco sono soprattutto le donne in questo caso. Anche perché i social rendono immediatamente un modello disponibile a tutti e quindi chi non rientra in quel modello si sente non adatto, non adatto. Ma poi soprattutto il fatto che oggi è tutto o è immagine o non è. E anche le giovani generazioni sono abituate a ragionare attraverso immagini veloci, velocissime. Il tempo per pensare o per rapportarsi in modo normale, diretto, umano e quindi col contatto diretto con gli altri spesso si perde oggi. Questo è un grosso problema anche per noi donne, non solo per voi uomini. È vero, però stavo pensando. Grazie.